Musica Oggi qui da Alcamo si parla della finta di localizzazione della Bertolino, perché? Perché c'è un progetto della imprenditrice proprietaria della distilleria Bertolino che appunto ha utilizzato un protocollo d'intesa del comune di Partinico che prevede la delocalizzazione della distilleria e la sua riallocazione in un territorio limitrofa al comune di Alcamo, incontrato a Bosco Falconeria, di circa 16 ettari che tramite una variante appena regolatore votato dal Consiglio Comunale di Partinico pochi mesi fa trasforma questi 16 ettari da agricolo in industriale, di uno quindi la possibilità di fare industria insalubre fino a questo momento si parla di un impianto a biomassa per la produzione di energia elettrica però chiaramente noi siamo molto preoccupati perché da alcuni indizi e da alcune informazioni che abbiamo è facilmente trasformabile in un possibile inceneritore visto che c'è pure il piano di crocetta regionale che prevede un inceneritore in ogni provincia ci siamo fortemente preoccupati Questa mattina è connotata lo zingaro nella polemica la scuola all'ultimo si è ritirata, perché? Ma è stata una cosa in attesa perché noi innanzitutto erano due iniziative separate che prevedeva appunto una performance sportiva di Enzo Favoino che ha nuotato da Calacaperia fino a spiagge di Guida Loca per sensibilizzare tutta la cittadinanza su tema della sostenibilità ambientale, del mare e della pulizia del mare e avevamo coinvolto l'istituto Mattarella Dolce di Castellammare del Golfo che doveva partecipare sia con una barca con docenti e studenti che ci doveva accompagnare nella notata e anche con dei ragazzi che dovevano venire ad accogliere l'arrivo Favoino che concludeva la notata e fra l'altro era patrocinato dal comune di Castellammare quindi come dire tutto programmato per tempo utile stamattina mi è arrivata un'email della dirigente che mi diceva che non poteva più partecipare perché dice che non aveva capito che era un'iniziativa contro la Bertolino io sinceramente sono rimasto stupito perché non era questa l'econnotata e poi fra l'altro lo scopo educativo di una presa è quello appunto di abituare i ragazzi a decidere con la loro testa e quindi il fatto di proibire di partecipare a una econnotata ambientalista per difendere i temi della sostenibilità mi sembra veramente assurdo poi ho capito perché mi ha detto che noi abbiamo dei ponne finanziati con la SLEI a Bertolino e quindi come faccio con la signora quindi mi è sembrato veramente una cosa che si torna indietro da questo punto di vista perché la libertà di espressione credo che sia una delle cose principali che soprattutto la scuola dovrebbe educare le giovani generazioni